ma io ci odio a morte c'è questo piccolo particolare si 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 se potesse ammazzarci ci ammazzerebbe tutti buccio buccio vai tranquillo al massimo tanto c'è il vetro fortunatamente mizzeca si è arrabbiata chi ammazzarci ma dai si si è arrabbiata guarda come è arrabbiata come vuoi sapere che è una femmina? perché è nervosa come una biscia quindi non puoi essere un uomo perché buccio? eh perché vorrei che prova a attaccarci ma non l'ho fatto e l'altro ragazzo l'ha fatto mi dice se veramente io non vorrei esserla dentro neanche se mi dessero buccio bussa ma il manuale dov'è? picchia picchia no basta dai poverina basta Safi si andiamo? no guarda 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 che bella ma ti rendi conto che siamo qui a un metro? aspetta aspetta guarda 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 che bella che è mamma noi diamo un minuto dai mamma mia c'è qua un metro due sì 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 ma lei ti ho detto che ci odia a mostro mamma mia non 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 il non Grazie